Il Medioevo scende in piazza. Il pubblico di Bellari e Giamarina ha partecipato numeroso alla rievocazione storica dell'approdo dei Saraceni sulle proprie coste, un evento che ha coinvolto adulti e soprattutto i bambini. È una rievocazione storica dove traiamo dalle nostre origini anche la possibilità di far conoscere quello che accadeva nelle nostre zone che erano costantemente depredate dai Saraceni che partivano dalle loro zone, venivano da noi qua, prendevano quello che volevano sia sotto il punto di vista materiale, beni, cibi, nonché donne e uomini forti che venivano portati via. Cerchiamo di farlo nella maniera più realistica possibile. I colpi che portiamo sono veri, sono portati al corpo dell'avversario a piena potenza. Facciamo questo perché ci addestriamo da anni in una disciplina marziale, quindi una vera e propria arte marziale che è l'arte marziale italiana. Noi proponiamo praticamente la vita di una corte nobile quando andava in accampamento del 1200 e in più noi facciamo anche scene teatrali con combattimenti. La cosa che mi piace di più del rievocare il Medioevo è quella di poter vestire realmente i panni di mercenari che sono vissuti alla fine del XV secolo.